Ah, siete parecchi però, eh? Allora, è una scuola che negli ultimi anni si è aperta anche a un genere di danza nuovo, come appunto quello dell'Ipò. La loro coreografa, cosa dire, è un'amica, poi è bravissima ed è anche molto bella, la conoscete tutti, è Giorgio De Lidio. Allora, anche loro presentano un estratto dal loro spettacolo che si chiama Alice in Wonderland che vedremo il 25 giugno al Teatro La Felice e non ridico le stesse cose di prima ma le penso esattamente e vi faccio i complimenti. Allora, dunque, i pop dal Nirvana sono i pop ragazzi e i pop avanzati, quindi sono due gruppi che si sono uniti insieme. Ricordatevi il 15 e il 25 giugno al Teatro La Felice. Partiamo pure! Partiamo pure! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti